La città di Assisi e la Diocesi hanno celebrato il sabato la festa del voto per ricordare il salvataggio della popolazione dall'assedio dei Saraceni nel 1241 grazie all'intercessione orante di Santa Chiara. Con questo appuntamento annuale gli abitanti della città serafica rivolgono con singolare devozione verso la Santa il loro ringraziamento per il miracolo ricevuto. Sentiamo un passaggio dell'esortazione del Vescovo Sorrentino. Il quale, da ricco che era, si è fatto povero per noi, per arricchirci della sua povertà. La giornata si era aperta la mattina in piazza del comune con il suggestivo inno di Assisi eseguito dagli araldi con le chiarine. A seguire il suono a festa della campana delle laudi e delle altre campane della città per ricordare la liberazione di Assisi e la benedizione della copia della Madonna del Popolo restaurata che è stata riallocata nell'edicolante istante l'ufficio turistico. In serata in tanti hanno partecipato al corteo religioso che in piazza del comune si è unito a quello civile per proseguire tutti insieme verso la basilica di Santa Chiara e omaggiare le clarisse del protomonastero che custodiscono le spoglie e il carisma della Santa di Assisi.